Buongiorno, questa è Irene Frospotown Barcelona e oggi siamo in una piccola città di fuori della città, il nome è Esplugues degli Ubregatti. È un paese molto caldo, ma molto bello per vivere. Siamo tra Barcellona e Hospitalet e Cornella degli Ubregatti. C'è una piccola città qui nel medio. Abbiamo i buss, i trams per arrivare a Hospitalet, Cornella e la città di Barcellona. In questo appartamento ci sono due bambini, la città, la città, la living room, una piccola bambina e le terrasse. Allora andiamo a vedere. Il primo luogo, ok? Qui c'è l'elevator, le stagioni, e questa è la porta del luogo. Ok? Qui c'è l'elevator, la corredore. Ok? Qui c'è l'elevator. Ok? Qui c'è l'elevator. Qui c'è l'elevator. Qui c'è l'elevator, il primo luogo. Il luogo numero uno. Qui c'è l'elevator. E questo è il luogo. Un luogo. Un luogo. E un tipo di wardrobe. here and desk nightstand hitting unity okay is small but comfortable okay you have also space to storage your stuff here okay and here in interior patio okay so and now and the kitchen living room okay American kitchen okay American style and it's fully equipped okay let's go here a structure and light okay microwave oven okay wash machine fridge freezer kettle coffee machine you have everything okay so this door is the bathroom so in its room you have heating unity okay in here in the living room you have also the aircon okay in front of you when you open another pocket door okay and it's with his private bathroom okay and this is the bathroom okay number two um it's the bigger one with a double bed okay and this is the bathroom okay number two um it's the bigger one with a double bed okay okay it's really really bright okay it's really really bright è pieno di luce naturale e da l'interrace siamo in la terrasse qui siamo in la living room so far television speaker questa è la terrasse ok è davvero bello e c'è molto silenzio ok